Ma quant'è bella la senape in questo periodo! Sono tante cimette belle, fresche, teneri, che tra poco arriva anche la fioritura, che raccolgo e porto in cucina per preparare un veloce, gustoso, sformato, ai sapori selvatici senza glutine. Una preparazione che mi gusta tanto, metto dentro un po' di cavolfiore di ivano e tutta la senape tagliata, fina fina, cruda, che posso mescolare in tantissime ricette perché la senape è molto molto versatile. Da cotta la senape è veramente delicata con un leggero sapore aromatico e quindi è veramente facile abbinarla a tantissime ricette. Questo è un po' di farina di cocco, un po' di semi di girasole, metto un abbondante giro di olio evo sopra e in forno. Voilà! In pochissimo tempo uno sformato, un po' altino come piace a me, cremoso, morbido, da servire come primo, come antipasto oppure anche come assaggio stuzzichino tagliato in forme diverse. Uno sformatino sano, senza glutine, pieno di benessere e luce.